Io, come si usa, ho mandato gli inviti a tutte le persone che conoscevo e ovviamente anche a loro, credo. Non sono venuto perché ho sposato fuori, quindi non sono venuto al mio matrimonio. E beh, niente, è finita lì, però credo che ci sarebbe ancora... Un bel giorno mi ha telefonato e diceva, nel pomeriggio veniamo a farvi visita, non so se è stato tuo nonno o tua nonna a fare visita. E infatti mi ricordo che stavamo a un terzo piano e stavamo, credo che fosse un periodo buono estate, perché stavamo affacciati al balcone. Sono arrivati e con lei che portava sotto il braccio questo oblicco, ha detto che ci regalo un quadro. Infatti arrivare è stata una cosa meravigliosa, è stato il dono più gradito che è rimasto e che rimane, che è tanto carro. Infatti noi teniamo un salotto al centro.